La tua lama, Mistios. La lancia. Mi ricorda tempi lontani, i persiani. Questa lancia ne ha uccisi molti. Anch'io. Sul campo di battaglia e nell'arena. Hai combattuto nelle guerre persiane? Sì. E com'è stato? Duro. I persiani erano dei nemici formidabili. Erano più di noi. Avevano guerrieri provenienti da terre sconosciute. Ci volle un mondo greco unito per cacciarli. Altrimenti sarebbe stata una sconfitta totale. Un mondo greco unito. Sembra una fantasia ora. Già. Ma tornare dalla guerra è stato più difficile che combattere. Per me, Maione, tornare alla vita quotidiana è stato... duro. Eravamo uomini abituati a combattere per sopravvivere. Abbiamo ritrovato una cosa simile nell'arena. Com'era l'arena ai tuoi tempi? Era un luogo d'onore ed eroismo. Ho bagnato la mia lama nel sangue per anni. Ma erano tempi diversi. E io ero un uomo diverso. Come sei diventato una leggenda dell'arena? Cos'hai dovuto fare? Sono sopravvissuto. Devo andare. Hai combattuto egregiamente nell'arena. Continua così. Grazie.